La riabilitazione è importante per tutti i cittadini pugliesi intanto. Questo è l'unico centro riabilitativo pubblico gestito direttamente con risorse umane dipendenti della pubblica amministrazione, quindi del Folli Clinico di Foggia. È un centro riabilitativo che ha un vantaggio intanto per il lavoro grandioso che è stato fatto in questi anni, per gli investimenti tecnologici soprattutto che sono stati fatti, per l'impegno del personale sanitario che si dedica a questa attività ed è ovviamente per l'importanza, il valore aggiunto che l'università conferisce ad un centro riabilitativo del genere. Ovviamente l'impegno della direzione generale adesso è fare una clinica riabilitativa e quindi un pulo di eccellenza che possa servire all'interno del Policlinico riuniti non soltanto soddisfare le esigenze ecco dei Foggiani ma le esigenze di tutti i pugliesi e quindi evitare ovviamente che i pugliesi vadano a affrontare un percorso riabilitativo importante al di fuori della regione Puglia. Dopo due anni che siamo stati praticamente in letargo, però con tutti gli specialisti in riabilitazione siamo stati connessi attraverso il computer, attraverso gli webinar eccetera, però questa era l'occasione per vederci in presenza e per fissare anche degli obiettivi per quanto riguarda la nostra attività futura. Noi in questo convegno abbiamo soprattutto visto e ascoltato delle autorità anche internazionali, per esempio il professor Molteni che ci ha parlato dei sistemi funzionali sistemi funzionali che sono molto importanti e dopo per esempio c'è stata la relazione della dottoressa Popolizio che con le immagini suggestive, trattografiche di risonanza magnetica funzionale ci ha fatto vedere come in effetti il riabilitatore, il fisiatra deve in maniera multidisciplinare o meglio passatemi questa espressione interdisciplinare, lavorare per il bene della persona che è al centro del nostro interesse. È cresciuta molto la unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa e tant'è vero che in questi ultimi anni ci sarà anche la possibilità di ricoverare pazienti che propongono delle problematiche abbastanza importanti, per esempio pazienti con lesioni spinali o pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, in poche parole è diventato un centro di alta specialità e lasciatemelo dire siamo partiti da un ambulatorio, da una stanza e adesso abbiamo un reparto grazie all'attività incessante e abbastanza intuitiva del professor Sant'Amato che con i suoi 20 posti letto dà la possibilità non solo agli abitanti di questa bellissima terra che è la Capitanata, ma anche a tutta la Puglia e anche alle regioni limitrofe. Questo convegno rappresenta un punto di partenza sicuramente per la regione Puglia e per la provincia, oltre che per la città di Foggia, in quanto ha riunito tutta una serie di specialisti della disciplina della medicina fisica e riabilitativa quindi non soltanto dirigenti medici ma anche fisioterapisti logopedisti per poter discutere le novità in ambito riabilitativo per allargare quelle che sono le conoscenze che partono sicuramente dall'interazione assistenza ospedale e università di Foggia ma che necessariamente devono allargarsi al territorio perché anche il territorio è importantissimo per fornire la qualità ai pazienti disabili che sempre più richiedono non soltanto qualità ma anche tecnologie ma anche servizi spesso andando all'estero sicuramente al di fuori della regione Puglia quindi la nostra volontà è quella di far vedere e far capire che Foggia e in genere tutta la Puglia può dare qualità e i pazienti possono quindi avere ciò che cercano anche da noi non soltanto fuori regione. Abbiamo cercato di coprire tutti i topic in ambito riabilitativo quindi dalla neuro riabilitazione in particolare con l'impiego di tecnologie con quindi non soltanto per la riabilitazione ma anche per la diagnostica studiare il cervello studiare come funzionano come si attivano le aree cerebrali e correlarle al movimento di un paziente disabile questo è fondamentale per anche rendere più specifica la riabilitazione non basta soltanto muovere un arto ma capire se il movimento di quell'arto è un qualcosa che stimola determinate aree cerebrali abbiamo affrontato i temi del dolore abbiamo affrontato i temi delle problematiche artrosiche delle problematiche che sono forse molto comuni e che fanno sì che i pazienti debbano assumere farmaci e quindi la nostra volontà è quella di offrire loro tutte altre opzioni terapeutiche per ridurre l'assunzione di farmaci e quindi con magari tecniche di infiltrazioni guidate da imaging ed ecografia ed elettromiografia per evitare gli effetti collaterali di farmaci assunti genericamente ma per utilizzarli più dove serve affinché appunto il paziente possa diciamo sentirsi più sicuro anche nel sottoporso dei trattamenti riabilitativi abbiamo affrontato anche tematiche come la riabilitazione post covid che purtroppo oggigiorno è necessaria perché i pazienti che hanno avuto il covid hanno dei sintomi che spesso si manifestano tardivamente e quindi richiedono riabilitazione per problematiche dell'equilibrio per vertigini per debolezza muscolare questo purtroppo lo vedremo nei prossimi anni sperando appunto di contenere questi sintomi altamente disabilitanti le novità più importanti in ambito riabilitativo sono sicuramente l'impiego della tecnologia al servizio del movimento correlando col vedere in testa nel cervello cosa succede quando il paziente muove un segmento scheletrico tra le novità ricordiamo sicuramente le possibilità di utilizzare delle tecniche di imaging dell'ecografia elettromiografia ma mi soffermerei su un aspetto molto importante ovvero che più che novità noi dobbiamo ricordarci che il paziente che giunge nei nostri servizi è un paziente disabile che probabilmente non verrebbe da noi se non ha necessità e bisogno quindi spesso il sorriso spesso la comprensione del paziente che abbiamo di fronte è la migliore delle armi a nostra disposizione ho parlato di neuromodulazione nelle lesioni del cervello nelle lesioni del midollo spinale sono due punti cruciali che vanno stimolati in modo personalizzato con tecniche molto precise con individuazione di parametri di stimolazione molto precise con possibilità di influenzare il controllo del movimento la percezione del movimento il controllo addirittura della vescica il controllo della memoria quindi siamo di fronte a una neuromodulazione di sistemi complessi e importanti per il benessere alla vita del paziente tutto questo da correlare e collegare attività con nuove tecnologie durante la neuromodulazione abbiamo parlato di quello che è l'approccio riabilitativo nel paziente affetto da malattia di parkinson la malattia di parkinson è una malattia purtroppo molto diffusa e dove la riabilitazione gioca un ruolo effettivamente molto rilevante in letteratura scientifica ci sono molti articoli che testimoniano come la una riabilitazione che parte sin dalle primissime fasi della malattia sia assolutamente indispensabile per la qualità di vita della della persona ma anche per avere un impatto sull'evoluzione della malattia stessa effettivamente i nuovi modelli anche di presa in carico della persona e questo è uno degli aspetti su cui ci siamo maggiormente focalizzati riguardano non solo curare quello che già c'è ma anche lavorare in prospettiva di poter modificare proteggere il sistema nervoso delle persone in maniera tale da poter avere un impatto nel lungo periodo anche sull'evoluzione ormai ci sono moltissime evidenze fate conto che una rivista americana molto importante nel 2020 quindi poco tempo fa ha messo la riabilitazione come primo punto della terapia della malattia di parkinson prima dei farmaci e prima di quei sistemi di stimolazione cerebrale che ormai stanno sviluppandosi sempre di più ormai ci sono evidenze sempre maggiori dell'importanza di tutta una serie di approcci che vanno dall'esercizio classico ad alcune metodiche che sono invece focalizzate essenzialmente su problemi specifici la malattia di parkinson ha delle alterazioni che sono molto particolari il paziente si blocca mentre cammina il paziente fatica a riprendere e ci sono alcuni tipi di esercizi ed alcune tecniche ed alcune apparecchiature robotizzate che ci aiutano specificamente a lavorare su questi aspetti inoltre una di ricerca che si sta sviluppando anche questa molto importante è quella della neuromodulazione cioè andare ad agire con degli stimoli precisi su alcuni target su alcuni punti del sistema nervoso e insieme alla stimolazione associare anche delle metodiche di esercizio particolari perché siamo dei sistemi complessi e come tali dobbiamo intervenire contemporaneamente in tutti gli ambiti per dare la migliore risposta alla persona grazie a tutti